La capacità di riconoscerci peccatori ci apre allo stupore dell'incontro con Gesù, lo ha detto Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino celebrata a Casa Santa Marta, commentando il Vangelo del Giorno sulla pesca miracolosa. Anche in questo caso Gesù incontra la gente e la gente incontra Gesù, ha spiegato il Papa in due maniere. Quella di Pietro e del popolo, e per loro il Vangelo dice che sono rimasti stupiti, e quella dei dottori della legge, che non lasciavano che nel loro cuore entrasse lo stupore. Facevano i loro calcoli, erano chiusi nella loro sufficienza, nella loro superbia, ed erano incapaci di riconoscersi peccatori. Questa capacità di dire che siamo peccatori ci apre allo stupore dell'incontro di Gesù Cristo, il vero incontro. Anche nelle nostre parrocchie, nelle nostre società, anche tra le persone consecrate, quante persone sono capaci di dire che Gesù è il Signore? Tante. Ma che difficile dire sinceramente che sono un pecatore, sono una pecatrice. È più facile dirlo degli altri, quando si chiacchiera. Questo è quello, questo è quello, questo sì. Tutti siamo dottori in questo. Per arrivare a un vero incontro con Gesù è necessaria la doppia confessione. Tu sei il figlio di Dio e io sono un pecatore. Ma no, in teoria, per questo, per questo, per questo, per questo. è stato un pecatore. Grazie a tutti